Buonasera, apriamo un nuovo appuntamento con l'informazione su Telestense. Tra le notizie di questa sera parleremo di vaccini con due servizi, uno che riguarda la partenza della vaccinazione anti-influenzale e un'altra che riguarda le scuole che chiudono la campagna vaccini. Vi parleremo anche di Nicola Lodi della Lega che denuncia spese non giustificate per un campo nomadi e poi ancora notizie che riguardano le aziende che sono in lieve crescita nel terzo trimestre di questo 2017, a dirlo è la Camera di Commercio, poi ovviamente tanti dettagli legati alla SPAL, ieri 1-1 contro l'Atalanta. Cominciamo dalla politica, in particolare dalla disfatta per il PD, questo appunto il titolo che sintetizza l'esito delle elezioni regionali in Sicilia, dove mentre andiamo in onda si sta concludendo lo spoglio e diventa definitivo il testa a testa tra Nello Musumeci, candidato del centrodestra, e Giancarlo Cancelleri, candidato del Movimento 5 Stelle. Al PD con alternativa popolare e altre due formazioni minori, meno del 20% al candidato Fabrizio Micari, mentre per il centrosinistra di Claudio Fava, sostenuto da MDP, poco più del 6%. Il servizio. Mentre si consuma la sconfitta plateale per il Partito Democratico in Sicilia e Di Maio annulla il confronto con Matteo Renzi giustificandolo con una battuta al vetriolo, non è lui, dice il nostro competitor, c'è chi legge i risultati del voto come un test per il PD di Matteo Renzi e una profezia nefasta per le future elezioni politiche. Eppure il 20% di Micari, PD, non è lontano dal risultato delle precedenti regionali che portarono alla vittoria proprio il candidato del Partito Democratico con poco più del 30%, ma allora il governatore uscente Rosario Crocetta vinse soprattutto a causa della divisione del centrodestra. C'è da dire inoltre che il voto di lista per il PD in Sicilia non ha mai superato il 13% negli ultimi anni, ma in questo momento il risultato, pessimo al confronto con i voti ottenuti dal centrodestra e Ghirlini, arriva dopo alcune sconfitte importanti per il PD. Paolo Calvano, segretario regionale del Partito Democratico in Emilia Romagna, raggiunto al telefono, commenta ricordando che è la storia, dice che la Sicilia è un'isola difficile per la sinistra, tuttavia aggiunge il segnale non può essere ignorato, proprio in vista di elezioni politiche imminenti. Per due ragioni, aggiunge, primo perché questa sconfitta darà un'ulteriore spinta alle destre per presentarsi unite alle politiche, nonostante le molte differenze. Secondo perché non è possibile che la sinistra continui ad ignorare i segnali che vengono dal Paese e trovare l'unità superando i contrasti. E citando Walter Bertroni, Calvano conclude dicendo di fronte a questa sconfitta tutta la sinistra dovrà ritrovare l'umiltà dell'unità per tornare ad essere competitiva. Abbandoniamo la politica, torniamo su una notizia anticipata in apertura perché parte la campagna di vaccinazione anti-influenzale. Obiettivo di quest'anno vaccinare il più possibile naturalmente le categorie a rischio ma anche il personale sanitario e gli addetti a servizi pubblici più in generale. Vediamo. 82.900 dosi acquistate, 7 ambulatori dedicati in tutta la provincia aperti con orari diversi dal lunedì al sabato. Medici di medicina di gruppo già in possesso del vaccino, coinvolgimento delle pediatrie di comunità, delle case della salute e addirittura per il personale medico possibilità di essere vaccinati direttamente sul posto di lavoro. Tutto è pronto in provincia di Ferrara per l'avvio della campagna di vaccinazione anti-influenzale 2017-2018 che inizia domani. Nei mesi di novembre e dicembre sarà dunque possibile vaccinarsi contro l'influenza il cui picco epidemico è previsto nei mesi di gennaio e febbraio. Il vaccino sarà come sempre gratuito per le categorie a rischio, anziani over 65, conoscenza patologie croniche, bambini sopra i sei mesi affetti da particolari malattie, donne in gravidanza, personale medico di assistenza nelle strutture pubbliche e private, ma anche tutti i soggetti addetti a servizi pubblici e di interesse per la collettività. Perché essere vaccinati contro l'influenza, hanno sottolineato questa mattina i tre direttori dell'AS, il generale Vagnini, sanitario Marabini e del Dipartimento di Sanità Pubblica Cosenza, è non solo un atto di prevenzione generale ma anche di responsabilità sociale. Basti pensare al boom di ricoveri che l'anno scorso il sistema sanitario ferraresi ha dovuto gestire nei mesi dei picchi oppure al costo sociale di giornate di lavoro perse per la malattia o per assistere familiari ammalati o ancora delle medicine necessarie. Dobbiamo ridurre quello che è la circolazione dei virus influenzali e lo possiamo fare esclusivamente facendo la vaccinazione. Un'operazione molto tranquilla, molto leggera, la vaccinazione per il virus ha conseguenze limitatissime per l'organismo, è davvero una vaccinazione molto sicura ed è importante per far sì che ci siano sempre meno problemi per la popolazione più a rischio, perché le popolazioni più a rischio sono quelle che l'anno scorso ad esempio hanno avuto più problemi e hanno dovuto fruire dell'attività ospedaliera perché tantissimi ricoveri da dicembre a febbraio sono stati proprio causati dall'influenza. E nella campagna di quest'anno sono inserite anche alcune novità. Quest'anno il vaccino antipneumococcico destinato ai 65 anni sani è la novità di questa campagna perché il vaccino è stato richiesto dai medici di medicina generale sulla base dei loro assistiti e la vaccinazione sarà offerta unitamente alla vaccinazione antinfluenzale. Questa è una novità ma non è la sola novità, non è l'unica cosa importante che è necessario sollecitare in questa campagna perché io ci tengo molto a ricordare le categorie a rischio, i pazienti cronici ma anche le donne gravide quindi le donne gravide nel secondo e terzo trimestre di gravidanza è importantissimo che si vaccinino. Ritorneremo a parlare di vaccini più tardi ma adesso ci occupiamo invece del caso di Nicola Lodi segretario comunale della Lega Nord che è tornato nel campo nomadi di Via delle Bonifiche e denuncia una incongruenza fra le spese messe a bilancio dal comune e i servizi che realmente vengono erogati nel campo una denuncia che viene condivisa anche dai nomadi sinti che vivono in quel campo e che dicono tutti quei soldi non sono mai stati spesi. Sentiamo. Lo aveva promesso e dopo un anno il segretario comunale della Lega Nord di Ferrara Nicola Lodi è tornato nel campo nomadi che si trova in Via delle Bonifiche in un'area deserta fra il petrolchimico e la zona che porta verso il casello di Ferrara Nord invitando anche la stampa Lodi denuncia che le spese messe a bilancio dal comune per mantenere quel campo non corrisponderebbero a quanto realmente speso. Il campo infatti denuncia Lodi in base alle carte ottenute dopo un accesso agli atti costerebbe fra lacciamenti gas, muri di recensione e nuovi bagni circa 10.000 euro al mese ma questi soldi secondo lui non si giustificano in base a quanto vede funzionare nello stesso campo. Siamo tornati dopo un anno per verificare le condizioni dopo un anno c'era stato promesso dalla Giulia Bertelli responsabile di questo campo ROM che le condizioni sarebbero migliorate. Non è assolutamente vero abbiamo documenti con noi che produrremo dove testimoniano che questo campo costa circa 10.000 euro al mese. Soldi che vengono spesi per forniture di gas quando qui il gas non c'è. Nel campo nomad infatti l'allacciamento e l'impianto gas non funziona e gli zingari, quelli presenti nella zona, sono di etnia sinti. Per scaldarsi e cucinare usano bombole da gas acquistate direttamente da loro. C'è il deposito sotterraneo di gas, si continua a riempire ma questo deposito è solo se stesso. Da qui non parte nessun allacciamento e nessuna fornitura. Tutti i servizi igienici, abbiamo verificato, funzionano con dei boiler a corrente. Qui negli anni abbiamo già speso oltre 10.000 euro di rifornimenti di gas, l'ultimo è successo nel 2017. Lodi inoltre denuncia la persistenza di una perdita di acqua nei vecchi bagni. Nonostante per questi, dice l'esponente della Lega, siano stati spesi soldi di rifacimento delle tubature idriche. C'è una perdita di acqua da esattamente quasi tre anni, denunciata dagli stessi abitanti di questo campo, ecco perché le fatture dimostrano 20.000 euro di consumo di acqua. Quello che ci tenevo a dire è che qui sono stati spesi, e vi fornirò i documenti, 50.000 euro di rifacimento in pianto idraulico, in questo campo finanziati dal comune. Spese che non si giustificano neanche per i nomadi che vivono nel campo. Io no, voi siete bravi, neanche il mio cane vive qua. Ma neanche il tuo cane non vive qua. Ma quindi voi dite che non vi pagano nulla, né acqua, né gas. Lodi così prosegue nella sua denuncia che, annuncia la stampa, porterà davanti alla Procura della Repubblica e parla di incongruenze di spese anche per un muro di cinta che non c'è. Mi ha messo in sicurezza di recinzione da 19.000 euro e qui il muro non c'è. Proprio loro mi hanno testimoniato. Qui è stato fatturato e pagato dall'amministrazione comunale una messa in sicurezza di un muro di recinzione di 20 metri. Esattamente 20.000 euro. In questo campo è stato speso, tra lavori di rifacimento di impianto idraulico, e tra messi in sicurezza 70.000 euro. I nuovi bagni, infine, quelli realizzati in un container, costano 50.000 euro, sostiene Lodi, e sono ottenuti da fondi, dice sempre l'esponente della Lega, del terremoto. Ma contestiamo assolutamente una cifra del genere per un container che potrebbe costare 10.000 euro, 15.000 euro al massimo. Torniamo a occuparci adesso invece di crack carife, perché è una sentenza che farà molto discutere quella emessa dal Tribunale Civile di Ferrara, che dà ragione a un risparmiatore ex carife, tanto che per lui dispone non solo il risarcimento del capitale perduto con l'azzeramento, ma aggiunge anche un risarcimento spese. Sentiamo come. L'ente Ponte risarcisca i risparmiatori azzerati. A disporlo è un giudice del Tribunale Civile di Ferrara, Anna Ghedini, in un'ordinanza resa pubblica lo scorso 31 ottobre in merita a una causa che lo studio legale BDF, acronimo dei cognomi degli avvocati, Bernardini, Di Brindisi e Franchi, ha presentato per un risparmiatore caduto nel crack carife. Con questa sentenza, infatti, si crea un precedente che potrebbe dare nuovo ossigeno ai risparmiatori azzerati per riavere i propri soldi. Azionisti e obbligazionisti della ex carife, ma anche delle altre banche finite nel decreto del novembre 2015, ovvero Banca Marche, Carichietti e Banca dell'Etruria, che potrebbero presto ottenere i risarcimenti attraverso una causa civile. Con questa sentenza, in pratica, un giudice del Tribunale di Ferrara ha disposto che anche la nuova carife, ente ponte creato per traghettare la vecchia carife in Banca Popolare dell'Emilia Romagna, dovrà rispondere del risarcimento agli ex azionisti e obbligazionisti. Un risarcimento che spetterà a un risparmiatore che aveva preso circa 20.000 euro e che ora, con questa sentenza, si dovrebbe vedere restituito non solo l'importo del risparmio azzerato, ma, in aggiunta, anche le spese di rivalutazione del capitale perduto, l'importo delle spese sostenute e gli interessi maturati dal momento del crack. Il giudice, infatti, ha emesso la sentenza motivando che, a causa di un errore formale di uno dei regolamenti che norma la gestione delle banche, il testo unico bancario, la nuova carife, è ritenuta responsabile dal punto di vista economico per un errore commesso dalla vecchia carife e dunque è tenuta a pagare l'importo azzerato del risparmiatore. Una sentenza che farà discutere che potrebbe essere una nuova strada per gli azzerati carife. Una sentenza, inoltre, che apre a nuovi scenari dove potrebbe essere chiamata in causa anche la BIPER, ovvero la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, che ha rilevato la stessa nuova carife. C'è un appello bis per il crack di Cop Costruttori domani davanti alla seconda sezione della Corte d'Appello di Bologna. Un processo bis dunque per la fine della Costruttori che arriva dopo che la Corte di Cassazione annullò per alcuni capi di diputazione il falso in bilancio e le false fatturazioni nonché la sentenza di secondo grado. Davanti al Presidente di Collegio, il giudice Valenti, mentre il Procuratore Generale sarà Nicola Proto, le parti dunque dovranno portare le loro motivazioni al dibattimento. In questo processo bis forniremo tutti gli elementi per colmare quel vuoto che ha rilevato la Corte di Cassazione. Dovremo a occuparci invece di vaccini perché da pochi giorni sono scaduti i termini per la presentazione della certificazione che attesta l'essere in regola con i vaccini divenuti obbligatori per poter frequentare le scuole di infanzia e dell'obbligo. Molti sono quelli che hanno risposto alle chiamate dell'Ausl per mettersi in regola ma purtroppo sono davvero tante le famiglie che non si sono presentate scegliendo di continuare a non vaccinare i propri figli. Il servizio. Gli obbiettori non si presentano agli appuntamenti e i pochi che lo fanno comunque non vaccinano e quanto sta accadendo in provincia di Ferrara rispetto all'obbligo di essere in regola con il nuovo calendario vaccinale per poter frequentare asili nidi, materne e scuole dell'obbligo. In pratica, da agosto ad oggi, l'Ausl di Ferrara ha richiamato con una raccomandata inviata alle famiglie i 3.749 bambini e ragazzi da 0 a 16 anni che non erano in regola con le vaccinazioni. Di questi, in 1991, non avevano eseguito magari un richiamo oppure solo qualcuna delle 10 vaccinazioni obbligatorie e, ha spiegato la dottoressa Marisa Cova a margine della conferenza stampa di presentazione della campagna per le vaccinazioni anti-influenzali, quasi tutti hanno risposto positivamente venendo ad eseguire i vaccini o i richiami mancanti. Poi ci sono 1.758 bambini che non hanno eseguito nemmeno un vaccino ed è proprio tra questi che c'è una grossa fetta di obiettori che non solo non hanno risposto alle convocazioni dell'Ausl ma anche quando si sono presentati poi hanno comunque scelto di non vaccinare. Si tratta soprattutto di genitori di bambini tra i 0 e i 6 anni, circa 500 alla scuola materna e 200 negli asili nido che dunque, se entro il 10 maggio non saranno stati vaccinati rischiano l'espulsione dall'istituto che stanno frequentando. Stiamo facendo grandi sforzi per riuscire a convincere queste famiglie perché l'obiettivo è quello di vaccinare i bambini per la loro tutela ma anche, ha sottolineato la dottoressa Cova, per quei bambini che per problemi di salute non possono essere vaccinati. Sono infatti loro ad essere maggiormente esposti ad un eventuale ritorno di patologie che rischiano di ripresentarsi se non si ottiene l'immunità di greggie che si è persa con il calo delle vaccinazioni degli ultimi anni. Cambiamo argomento. C'è stato un incontro oggi in Arcivescovado fra le associazioni giornalistiche ferraresi, l'associazione Stampa Ferrara, il Circolo della Stampa, Uxi, le testate locali e Monsignor Perego, arcivescovo di Ferrara Comacchio. Presentato da Alberto Lazzarini, i rappresentanti dei media ferraresi hanno ringraziato dell'invito e in particolare Massimo Manservigi, vicario generale della Diocesi e direttore della Voce per l'attenzione della Chiesa ferrarese rivolta al mondo dei media locali. L'incontro promosso dall'Arcivescovo ha voluto mettere al centro la riflessione su temi importanti della vita ecclesiale a Ferrara non abbastanza presente nelle pagine dell'informazione e complessivamente poco noto, seppur caratterizzato a livello nazionale e internazionale da importanti cambiamenti e da fenomeni rilevanti. Fra questi, Monsignor Perego ha ricordato la nascita di numerose congregazioni religiose nel corso degli ultimi anni del scorso secolo, la crescita delle vocazioni religiose nel mondo, le molte opere di carità silenziose e anonime e il ritorno alla fede di molte coppie che ne erano rimaste lontane. Mille persone ogni anno, ha aggiunto l'Arcivescovo, chiedono di convertirsi al cattolicesimo, una realtà insordina che potrebbe dare un quadro diverso della realtà anche in periferia nelle nostre città, spesso chiuse su se stesse. A Ferrara, ha aggiunto Monsignor Perego, c'è il problema serio della denatalità, un dato che incide già ora sulla tenuta di molte istituzioni scolastiche e religiose. Alla domanda centrale per i cristiani sulla Chiesa del futuro, cercheranno di dare risposta anche a Ferrara tre importanti approfondimenti da qui alla 2019, mentre Monsignor Masservigi ha annunciato la prossima pubblicazione di un portale online della diocesi come punto di riferimento dell'informazione per i fedeli, ma anche per le testate locali. E adesso invece cambiamo argomento, parliamo di imprese ferraresi che hanno avviato la propria attività nel terzo trimestre 2017 e che sono leggermente superiori rispetto a quelle che hanno chiuso. È il bilancio moderatamente positivo che arriva dalla Camera di Commercio di Ferrara. Il servizio. Il terzo trimestre dell'anno fa registrare un lieve miglioramento rispetto al 2016 sul fronte del saldo tra imprese iscritte e cessate. Ad evidenziarlo è la Camera di Commercio di Ferrara che tramite un comunicato sottolinea che da luglio a settembre di quest'anno si sono iscritte al proprio registro 343 imprese, mentre ne sono cessate 315 per un saldo positivo pari a 28 attività, quando nello stesso periodo del 2016 si registrava invece una differenza negativa pari a meno 14. Il recupero tuttavia, fa sapere l'osservatorio dell'economia dell'ente di Largo Castello, non è bastato a compensare la più ridotta dinamica di inizio anno cosicché il bilancio gennaio-settembre è ancora negativo, meno 181 imprese in meno contro le meno 156 dei primi nove mesi del 2016 e le meno 19 del 2015. Guardando ai settori, dall'inizio dell'anno la progressione più sensibile in termini assoluti la fanno registrare le attività di alloggio e ristorazione con più 22 imprese, seguite da quelle relative ai servizi alle imprese, più 21 e alle attività finanziarie e assicurative a pari merito con sanità e assistenza sociale, più 14. Sul versante opposto, ancora in contrazione, la base imprenditoriale manifatturiera, meno 31 unità tra gennaio e settembre, il commercio a meno 77 e l'agricoltura a meno 104. Nel solo terzo trimestre, confermata la dinamica positiva delle attività ricettive, più 13 unità, e dei servizi alle imprese, più 15. I segnali per l'agricoltura si invertono registrando una ripresa, almeno nel breve periodo, con più 21, che invece continua a rilevare contrazioni per manifattura, commercio e costruzioni. Una bella iniziativa adesso invece che riguarda l'Avis comunale di Ro Ferrarese, che insieme al gruppo archeologico ferrarese si propone di promuovere e sviluppare la campagna di scavi archeologici iniziata lo scorso luglio. E' questo l'accordo siglato tra le due associazioni, lo scorso venerdì 3 novembre, appunto a Ro Ferrarese, avendo come obiettivo la valorizzazione dell'impegno e del lavoro di chi partecipa attivamente nel mondo del volontariato, a partire dalle scuole. Sarà proprio negli istituti scolastici primari, infatti, che Avis e gruppo archeologico porteranno il messaggio della partecipazione attiva con l'obiettivo di far crescere il volontariato nel territorio. Il discorso è molto semplice, spiega Davide Brugnati, presidente dell'Avis provinciale. Il GAF propone un'attività archeologica basata su dati scientifici e l'Avis dà sempre l'appoggia, oltre alla sua attività principale, quindi il dono del sangue, anche l'attività di volontariato. A luglio sono iniziati gli scavi ed ora si proseguirà nelle scuole primarie dove ai bambini si spiegherà cosa significa lavorare insieme agli altri e collaborare con il volontariato per la conoscenza del proprio territorio. Da Ro Ferrarese ci spostiamo di pochi chilometri e andiamo a Copparo perché il Teatro dei Micheli ospita in questi giorni il sesto concorso lirico internazionale Città di Ferrara. L'evento si concluderà con l'assegnazione del premio Daniele Barioni. Vediamo. La grande musica internazionale torna a Copparo con il sesto concorso lirico Città di Ferrara diretto artisticamente da Maria Cristina Osti che si terrà al Teatro dei Micheli. Si sta svolgendo proprio in questo momento al Teatro dei Micheli di Copparo il sesto concorso lirico internazionale Città di Ferrara. È un concorso che vede iscrizioni da tutte le parti del mondo. I candidati che si presenteranno dovranno affrontare l'impervio ruolo di Nabucco perché ogni concorso prevede il debutto in un ruolo operistico. Il titolo di quest'anno è proprio Nabucco di Giuseppe Verdi. L'opera che debutterà in una produzione del Teatro dei Micheli nel 2018 esattamente il 16 di febbraio del 2018 e verrà riproposta nel meraviglioso contesto del Castello Estense durante l'estate ferrarese lirica in castello. Il concorso prevede la selezione anche di un secondo titolo. Si cercano candidati che si presentino per i ruoli dell'opera mozzartiana e il flauto magico per un progetto legato al Teatro Ragazzi del Teatro Comunale a Bado di Ferrara. L'evento culminerà nella serata di mercoledì 8 novembre quando il maestro Daniele Barioni tenore di fama internazionale originario proprio di Copparo consegnerà il premio che porta al suo nome al miglior giovane interprete distintosi durante la selezione. Io sono onorato di essere il presidente di questo concorso. Io domani sera abbiamo le selezioni dopo domani abbiamo un concerto al Teatro dei Micheli del mio paese di Copparo che mi ricordo quando ero un ragazzo andavo a vedere le Americanate in quel teatro lì mi ricordo non posso dimenticare queste cose e io premierò un giovane promettente che sono sicuro di trovare uno con una bella voce che abbiamo bisogno di grandi cantanti. L'importante è essere tenaci crederci sempre questi devono essere gli obiettivi. Certo è trovarci sempre nel momento giusto. Il sesto concorso lirico internazionale Città di Ferrara non solo porterà a Copparo artisti da tutto il mondo ma avrà anche una finalità benefica. L'evento ha inoltre finalità benefiche perché il ricavato del concerto che comunque è ad ingresso libero offerta libera verrà devoluto interamente alle associazioni attivissime del territorio copparese. E adesso invece dalla musica passiamo al calcio Spal ferma al palo ieri in un pomeriggio caratterizzato da un'alta lena di emozioni allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo dove i bianco-azzurri dopo essere andati sotto di un gol hanno pareggiato i conti con Rizzo per poi sfiorare la vittoria verso la fine del match. Punto d'oro per la squadra di Semplici che rimane così fuori dagli ultimi tre posti in classifica ma a questo punto sentiamo allenatore e patron Colombarini. Credo che venire a giocare contro questa Atalanta sia di più difficile per tutti guardando anche lo score delle partite in casa aveva pareggiato con la Juve e perso esclusivamente mi sembra con la Roma e quindi questo la dice lunga sulla forza di questa squadra sicuramente inizialmente siamo partiti un po' timorosi però la squadra per la pianina secondo me è venuta fuori il cambio di un modulo abbiamo riequilibrato un po' le cose sono molto soddisfatto soprattutto per il grande secondo tempo che abbiamo giocato siamo riusciti a mettere sotto l'Atalanta abbiamo raggiunto meritatamente il pareggio e alla fine ci poteva stare anche il colpaccio che non sarebbe stato assolutamente uno scandalo noi abbiamo speso tanto queste 12 partite perché molti ragazzi erano esordienti abbiamo speso tanto sia a livello fisico che mentale ci sono servite diverse gare per calarsi in quello che è il nostro nuovo campionato non dimentichiamo che alcuni di questi ragazzi due anni fa giocavano in Lega Pro e quindi insomma attraverso l'esperienza dei nuovi arrivati e la crescita di quelli come me sono partiti da Lega Pro bisogna trovare quell'unione quella forza che ci possa permettere tutte le domeniche di lottare e dare filo a torcia alle squadre avversarie e di mettere in campo poi quelle sono le nostre identità e anche le nostre qualità perché questa squadra secondo me ha delle qualità che ci possano permettere di lottare con fatica sicuramente però il nostro obiettivo è la salvezza Non perdere dunque l'appuntamento con Lune di Sport ma adesso parliamo ancora di spettacoli perché ci sarà un'iniziativa che ripropone in chiave pop l'opera di Gaetano Donizzetti l'Elisir d'Amore è quanto accadrà venerdì sera al Teatro Nuovo vediamo L'orchestra Senza Spine è un'orchestra Under 35 nata nel 2013 a Bologna con l'obiettivo di avvicinare il grande pubblico ed in particolare i giovani ad opere importanti il 10 novembre sarà protagonista al Teatro Nuovo con la riproposizione in chiave pop dell'opera di Gaetano Donizzetti l'Elisir d'Amore prima opera Senza Spine Elisir d'Amore qui a Ferrara in una città che ci ha già accolto l'anno scorso siamo molto contenti perché quest'opera ci permette di avere un rapporto con il pubblico diretto un approccio pop e quindi venite tutti a teatro perché la musica è meravigliosa lo spettacolo sarà molto divertente Il nostro Elisir d'Amore è ambientato in un parco cittadino ha un'ambientazione pop contemporanea è uno spettacolo estremamente divertente metteremo in scena delle pulsioni basilari che muovono tutta l'azione da una parte abbiamo il fascino per il potere e dall'altra abbiamo la ricerca del divertimento ecco queste due grandi pulsioni animeranno le scelte di tutti i personaggi in particolare del coro Il ruolo del coro è un ruolo principale si può dire perché Elisir d'Amore è un'opera in cui i personaggi e tra i personaggi appunto c'è anche il coro perché è sempre in scena è molto spesso in scena e si relaziona con i personaggi di Adina di Lemorino di Dulcamara e di Belcore sempre in maniera integrata e noi siamo felicissimi di partecipare a questa produzione perché è la prima opera che la corale Veneziani fa ed è molto importante perché è una corale storica che nasce nel 55 e finalmente dopo tantissimi anni di lavoro sinfonico corale da camera intraprende questa esperienza bellissima che è fare opera in teatro siamo in chiusura vi ricordo come sempre la possibilità di seguirci anche sul web sul sito telestense.it e anche tramite i nostri social ci trovate su facebook twitter youtube e instagram ancora una volta dunque grazie per averci seguito e appuntamento rinnovato alla prossima edizione grazie per averci seguito